Terras nasce nel 2011 commercializzando ed occupandosi di diabete, proponendo al mercato pompe per infusione di insulina e sistemi per il controllo della glicemia in automatico. Vogliamo continuare il trend che abbiamo, che è un trend assolutamente positivo, allargare e diversificare la nostra attività per continuare a trattare patologie che siano legate al diabete, come prediabete e obesità. Per sostenere lo sviluppo che abbiamo davanti abbiamo bisogno una volta per tutte di dotarci di sistemi nuovi e innovativi che siano in grado di aiutare la crescita della società. Ecco perché ci siamo affidati a Exprevia. Terras negli ultimi anni è cresciuta più del 13-15% all'anno. Abbiamo scelto quella che secondo noi era la soluzione più innovativa, basata su S4ANA in cloud. L'idea del cloud è avere una soluzione più sicura e più accessibile e ci garantirà sicuramente più efficienza. La scelta di RISE è stata fatta per venire incontro a quella che è la realtà di Terras, ma avere già la possibilità di avere un'infrastruttura e un servizio di livelli altissimi commisurati alla nostra dimensione, che può crescere con noi molto liberamente. Abbiamo scelto Exprevia perché riteniamo sia un partner assolutamente affidabile, competente. hanno avuto un approccio costruttivo. Exprevia ha proposto una soluzione implementativa S4ANA Cloud RISE with SAP con un approccio agile SAP Activate in 12 mesi, mantenendo l'integrazione tra i processi, aumentando l'efficienza dei processi e mantenendo l'integrazione dei sistemi informativi Terras. Questo consente di deliverare una piattaforma applicativa e infrastrutturale solida, affidabile e pronta alle evoluzioni future. In questo modo possono ottenere al meglio innovazione, velocità e scalabilità. Sono sicuro che Terras, insieme a Exprevia, con la soluzione S4ANA RISE with SAP riuscirà ad alzare ancora un po' di più l'asticella dell'eccellenza. Grazie a tutti.